Verbum Domini. Per volontà di Papa Francesco questa domenica è appunto la festa del Verbum Domini, della parola di Dio, che insieme al Corpus Domini, offerto e spezzato sull'altare come cibo di vita eterna, è il seme che diventa carne quando raggiunge la terra buona del nostro cuore e del cuore degli uomini e lo aiuta a dare frutti, lo fa rientrare in sé, rendendolo capace di donare amore. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non una volta all'anno, ma una volta per tutto l'anno, perché, continua Papa Francesco, abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la parola e il pane nella comunità dei credenti. Quindi, una urgente necessità, sente Papa Francesco, dovremmo sentire anche un po' noi, perché non è la stessa cosa leggere o non leggere la parola di Dio, e dobbiamo sentire l'urgente necessità di avere questa lampada, che guidi i nostri passi, che illumini il nostro cuore, che lo rincuori, che lo liberi da tanto amore per noi stessi, che ci conforti e allo stesso tempo ci dia tanta forza. Per questo abbiamo urgente necessità. Urgente perché, se non leggiamo la parola, tutto diventa relativo a noi. Quando la leggiamo, impariamo a capire chi siamo e anche a trovare il cammino da seguire. La leggiamo? La parola conquistando per lei uno spazio tra le tante parole che affollano la nostra vita? Fratelli e sorelle, veneriamo il verbo undomini. Per manifestare gratitudine a Dio, stupore per una parola antica e sempre nuova, una parola che non finiamo di capirla, perché è parola di amore di quel mistero di amore che è Dio. Sì, davvero, Lui solo ha parole di vita eterna. E se siamo docili alla parola, troveremo il senso di tutte le altre parole. Essa penetra come spada a doppio taglio fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino all'interiorità, cioè, fino alle giunture e alle midolle e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola è la seconda P insieme al pane e ai poveri e Papa Francesco ci indicò qui a Bologna in quella che fu la prima domenica della parola. E una P aiuta a vivere l'altra e non può mancarne nessuna. Dice, no, io mi occupo solo del pane, non mi interesso delle altre due. E non funziona così. E se ti occupi del pane, devi occuparti anche della parola e degli poveri. Una ci aiuta a vivere l'altra. Infatti, che cosa diventa il pane eucaristico senza ascoltarne la voce e aprire il nostro cuore a quanto ci insegna? E che cosa diventa la parola senza il nutrimento della sua presenza reale che ci unisce a lui e ai fratelli? O senza metterla in pratica amando il povero concreto nel quale vediamo e onoriamo il corpo stesso di Cristo? E che cosa diventano i poveri quando dimentichiamo il suo corpo o la sua voce che ci donano un amore tanto più grande delle nostre paure e delle nostre misure avare? La parola è rivolta a ciascuno. Dice, io, non è per me. È rivolta a ciascuno di noi. Possibile per tutti. Possibile per tutti. Anzi, i piccoli la comprendono e la vivono mentre i sapienti, gli intelligenti non la conoscono e la rendono difficile e lontana dalla vita. La parola di Dio ci fa sentire amati da Dio e ci insegna a amare il prossimo. È parola e quindi possiamo facilmente sciuparla lasciarla inerte perché non la prendiamo sul serio perché è un seme perderla confondendola con le tante parole che possiamo scegliere e piegare al nostro piacimento. Ma la parola di Dio non è un'esortazione morale o una legge è molto di più. È un amore che ci chiede di amare Dio e di amare il prossimo. Se non diamo spazio anche fisico nelle nostre giornate alla parola per leggerne un po' finiamo ingannati dagli affanni e pieni di parole vuote come Marta che non sa ascoltare e diventa come vi ricordate piena di sé tanto da credere che Gesù non la capisce e certo non la ascoltava per cui non la capiva ma se stava un po' più ferma ad ascoltare si sarebbe sentita capita come Maria. L'opposto della parola non è il silenzio che anzi è così necessario per ascoltarla. Che uno legga il Vangelo con le cuffiette e altre cose ho paura che non capisce niente. E il silenzio proprio il silenzio ci aiuta. Qualche volta abbiamo paura del silenzio. L'horror vacui si dice in latino. Dio che è tutto sto silenzio dobbiamo attaccare qualcosa invece per capire per connetterci con la parola dobbiamo fare un po' di silenzio questo è sicuro. Allora il contrario della parola non è il silenzio ma sono le parole senza vita quelle che ci lasciano prigionieri dell'amore per noi stessi. La parola è acqua buona questo anno in cui ricordiamo la samaritana che se la beviamo ci rende una sorgente di amore per tanti che hanno sete di un amore vero e quindi di parole vere. Non la capiamo la parola di Dio in astratto ma vivendola obbedendo all'amore obbedienza che è un gioco dolce e leggero imparando come dei bambini a parlare ascoltandola. Se uno ascolta la parola impara anche a parlare le parole di Dio è come una lingua e se uno l'ascolta poi a un certo punto la sa anche ripetere. Lo capiamo con il Vangelo di oggi Gesù ci chiama a seguirlo e chiama tutti noi è l'inizio ma anche alla fine dei nostri giorni perché anche nella nostra ultima ora Gesù ci dirà seguimi che vuol dire stai con me mi fido di te voglio te bellissimo ho bisogno della tua vicinanza e del tuo lavoro Dio ha bisogno di noi e noi abbiamo tanto bisogno di lui allora Gesù non ci fa discorsi difficili complicati tanto che solo alcuni possono capirli e viverli la parola è impossibile se non capisco l'amore e la rendo appunto una legge e non un incontro venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini in chiaro di così a dei pescatori ecco cosa succede quando sentiamo la sua parola rivolta a me a noi amore che chiede amore lasciano tutto e diventano la famiglia di Gesù perché Gesù mette su famiglia con coloro che ascoltano e mettono in pratica la sua parola quindi non i perfetti ma chi ascolta peccatore com'è la parola che lo chiama non si può essere cristiani senza ascoltare e mettere in pratica la sua parola senza ascoltarla oggi perché oggi possa dare frutti nel nostro presente aiutiamoci insieme a leggerla e a viverla infine abbiamo ascoltato l'apostolo vi esorto fratelli a essere unanimi nel parlare perché non vi siano divisioni tra voi ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire quando non ascoltiamo la parola finiamo sempre per dire soltanto io io sono di Apollo io sono di Cefa i frutti dell'ascoltare se stessi di imporsi sugli altri e la divisione che viene dal dire soltanto io è sempre frutto del maligno guai a cercarla e a non difendere istintivamente la Chiesa e la parola di Dio che la convoca in questi giorni di preghiera per l'unità dei cristiani Papa Francesco ha voluto la domenica della parola proprio vicina alla preghiera per l'unità dei cristiani abbiamo visto le conseguenze di tanta divisione e come le diversità i tanti io senza la parola di Dio diventano babele dove ognuno parla per sé senza gli altri o sopra gli altri se siamo pieni della parola di Dio e del suo spirito che ci aiuta a capirla sappiamo parlare tutti la stessa lingua che non cancella le diversità ma le unisce Papa Benedetto nella bellissima esortazione Verbum Domini scrive cita San Girolamo grande innamorato della parola di Dio si domandava come si potrebbe vivere senza la scienza delle scritture attraverso le quali si impara a conoscere Cristo che è la vita dei credenti e ce lo dovremmo chiedere anche noi ed egli sempre San Girolamo consigliò la matrona romana Leta per l'educazione della figlia gli aveva chiesto che devo fare per educare mia figlia e gli risponde assicurati e essa studi ogni giorno qualche passo della scrittura alla preghiera continua faccia seguire la lettura e alla lettura la preghiera c'è un rapporto strettissimo tra la preghiera e la parola di Dio e poi conclude che invece dei gioielli e dei vestiti di seta essa ami i libri divini lo ricorda anche a noi se ricevesse una lettera di un imperatore terreno diceva San Gregorio Magno non induggeresti non riposeresti non concederesti sonno ai tuoi occhi se prima non avessi conosciuto ciò che l'imperatore terreno ti avesse scritto arriva una lettera non so per noi di qualche Papa Verone subito la correremo a leggere conclude San Gregorio ora non trascurare di leggere la lettera di Dio è molto intelligente molto vero tu la leggere la lettera di Dio leggila lo raccomanderò tra poco ai nostri fratelli che istituiamo come lettori che ricordano a tutti noi di essere lettori della parola di leggerla quindi non soltanto locutori ma lettori dovete leggerla per leggerla restando sempre in sua compagnia e lettori nel senso di annunziarla a tutti si ascolta per parlare si riceve per donare vi dirò ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini è sulla sua parola che possiamo gettare sempre le reti nel mare confuso di questo mondo perché siamo chiamati tutti a essere pescatori di uomini sicuri che il suo seme anche quando ci sembra ed è piccolo darà frutti frutti grandi quanti attendono il Vangelo di amore di Dio venite dietro a me e farò escatori di uomini e così sia grazie a tutti